Diciamoci la verità, il bilancio delle italiane in Europa non è poi così positivo, soprattutto guardando il risultato di Cluj-Lazio di questa sera. Ciao bella a tutti da me. È praticamente finita perché siamo a 3 minuti e 50 di recupero e ce ne sono solamente 4. Il Cluj che si porta a casa una partita in una maniera anche abbastanza inaspettata, soprattutto per come si era messo il primo tempo, in cui la Lazio, finita in questo momento, la Lazio ragazzi ha fatto la partita, è passata in vantaggio con un colpo di coscia o ginocchio che dir si voglia, spiazza il portiere, addirittura Lazzari si mangia il gol del 2-0, partita in gestione nel primo tempo da parte della Lazio, ma Cluj che riesce a pareggiare su calcio di rigore, errore di Lucas Leiva che atterra un avversario, viene concesso il calcio di rigore e si va sul punter di 1-1. Nel secondo tempo però è cambiato qualcosa, la Lazio si è spenta, ha perso ritmo, magari era un po' stanca sicuramente, e il Cluj ne ha approfittato, hanno iniziato a creare occasioni da rete, c'è stato un salvataggio quasi sulla linea da parte del giocatore della Lazio che ovviamente non ricordo, e poi una cazzata destra coscia perché da là tu non me puoi uscire così a vuoto, lascia praticamente la porta sguarnita, arriva il calciatore del Cluj che di testa la mette dentro, tocca il palo, c'era un difensore anche abbastanza ben posizionato diciamo, che ha provato a buttare fuori la palla ma non ci è riuscito. Nel complesso ragazzi, una partita lo ripeto stranissima, guardando il primo tempo la Lazio meritava assolutamente di vincere, alla fine però il calcio è questo, cioè se l'avversario segna un gol in più di te, evidentemente qualcosa vorrà dire. Non so com'è finita l'altra partita tra Rann e Celtic, erano sul punteggio di 1 a 1 e quindi insomma, beh forse peggio se avesse vinto una delle due perché due andavano a tre punti, Lazio che restava a zero, così invece diciamo che rimane aggrappata a zero punti a un gruppetto dei due che rimangono ad un punto. Devono cambiare assolutamente atteggiamento, hanno appena iniziato, hanno le carte in tavola per vincerne parecchie in questo girone, e quindi per ribaltare completamente la situazione, ma non mi aspettavo una sconfitta della Lazio, cioè almeno il pareggio io pensavo che lo avrebbero portato a casa e invece ho paura per stasera per la Roma, ma noi giochiamo in casa e sicuramente è differente, però pure noi ragazzi a livello psicologico, poi queste partite se vincono e se perdono a livello psicologico, se perdi qualcosa a livello di testa, secondo me l'atmosfera e comunque la situazione che si è creata in campo ha fatto la differenza, questi hanno cominciato a prendere campo, hanno cominciato a prendere consapevolezza dei propri mezzi, alla fine sono riusciti a ribaltarla, spero che non succeda per la mia Roma stasera. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al mio canale, qualora non l'aveste ancora fatto, voglio sapere da voi se secondo voi è meritata la vittoria del Cluj o se la Lazio meritava almeno un pareggio. Guardando il primo tempo la Lazio meritava la vittoria, nel secondo tempo assolutamente no, perché il Cluj ragazzi ha ribaltato la situazione, tant'è che alla fine ha fatto nove tiri nello specchio, nove tiri no, in totale nel primo tempo ne aveva fatto assolutamente niente a parte il gol su calcio di rigore, possesso palla nettamente a favore della Lazio ma quello lo sapevamo e niente appunto fatemi sapere in un sondaggio che cosa ne pensate voi, ci vediamo più tardi col post partita della Roma e basta non mi dilungo più di tanto. Ragazzi miei, una buona serata a tutti voi, ovviamente registro anche la live reaction che vedrete domani su YouTube, credo alle 14.35. Buona serata!